E' ancora emergenza droga tra i giovani abruzzesi. Nella serata di sabato, infatti, la squadra mobile di Pescara, nell'ambito di una mirata attività volta al rafforzamento del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal questore Luigi Liguori, ha arrestato un 19enne già noto alle forze dell'ordine e un 16enne incensurato, poiché colti nella flagranza di reato di detenzione di droga ai fini di spaccio. In particolare, all'esito di un servizio mirato, gli agenti hanno deciso di perquisire il maggiorenne, che ha tentato di depistare gli stessi poliziotti, conducendoli in un'altra abitazione dello stesso stabile, in realtà in uso alla nonna. Tuttavia, gli investigatori, nel corso delle attività di indagine, avevano accertato quale fosse l'appartamento realmente a disposizione del giovane e, dopo esservi entrati, vi hanno trovato il 16enne seduto al tavolo della cucina, intento alla parcellizzazione e al confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente. Sono stati quindi rinvenuti e sequestrati complessivamente 88 grammi di hashish e 540 grammi di marijuana, oltre alla somma di 3.185 euro in contanti, presumibilmente frutto della vendita delle sostanze stupefacenti. Il maggiorenne è stato quindi condotto in carcere, mentre il minorenne è stato posto agli arresti domiciliari.